Secondo voi esiste una città dove è possibile rubare delinquere senza essere puniti? Cioè riuscire ad andare a derubare nei negozi e far sì che le forze dell'ordine non possano intervenire? Sembra una roba da giorno del giudizio perché potete immaginare che cosa può portare come conseguenza. È fantasia? No, è realtà. È successo in qualche città strana, sperduta nel mondo? No, stiamo parlando di San Francisco. Sono Manuel Spadaccini e ho fatto della difesa personale il mio lavoro. Grazie alla mia esperienza nell'arma dei carabinieri e poi all'estero ho capito che per difendersi non serve solo muovere le mani, ma occorre saper usare la testa prima dei muscoli. Come fare? Te lo spiego in questo canale. Benvenuto nella difesa personale, professionale. Stay safe! San Francisco, sì esatto, ma prima di spiegarvi che cosa sta succedendo in questa città che una volta era bellissima ma adesso è un fuggi-fuggi generale, sta diventando un teatro di zombie, vi ricordo di iscrivervi al canale. Ragazzi, per me e per tutto lo staff che lavora e contribuisce alla crescita di questo canale è importantissimo anche un solo iscritto in più. Per cui, se anche voi volete far parte di questo gruppo e aiutarsi nella crescita del canale, iscrivetevi, attivate le notifiche con la campanella e a noi ci renderete felici. Adesso andiamo avanti a parlare di San Francisco. Cosa significa che si è impuniti se si ruba? Allora, partiamo dall'inizio, breve ma intenso. California, nel 2014, passa la Proposition 47, chiamiamola Pro 47. In sostanza è una legge che è stata voluta dai democratici, con uno spirito di grande progresso, a loro dire, affinché possa essere una legge che tutela le fasce deboli, le vittime del sistema e di conseguenza evita che lo Stato, il sistema, si accanisca su questi poveraci. In sostanza questa legge molto, molto particolare nasce sia per andare a proteggere, a loro dire, le persone più deboli e più in difficoltà, ma anche con lo scopo di svuotare le carceri che si stanno riempiendo in maniera impressionante. E di conseguenza decidono di eliminare tutti i misminors, in sostanza i reati minori. Significa che tutti quei reati che fino a prima erano puniti dalla legge, diventano impuniti. Ma quali sono? Beh, ragazzi, una valanga. In sostanza identificano il furto, il taccheggio, quindi andare a rubare nei negozi, la truffa, l'emissione di assegni falsi, e anche l'utilizzo della gran parte delle droghe a uso personale, viene praticamente considerato non un reato, purché il danno non superi i 950 dollari. In principio erano 400 dollari il limite massimo, perché tu potevi rubare senza essere punito, ma poi, dato che era nel 2014, con l'avanzare degli anni hanno detto beh, adattiamolo un po' i costi della vita, che costa più tutto, allora adattiamo anche questa soglia. Ed è stata portata a 950 dollari. Ma siamo davvero sicuri che questa decisione sia stata utile? Vediamo cosa sta succedendo. Oltre a pensare che 950 dollari di tetto per poter rubare senza essere impuniti non è poco, dobbiamo anche considerare che gli Stati Uniti hanno un problema piuttosto importante su gli homeless, cioè le persone che sono senza fissa rimorre, che vivono per strada. Pensate che solo a California ha speso per costruire alloggi per gli homeless più di 20 miliardi di dollari dal 2020 a oggi. Una cifra pazzesca, quindi pensate quanto possano anche pesare sulle casse dello Stato. E sostanzialmente San Francisco ha un problema in più. Ha infatti questa città un'ingiunzione federale che gli impone di non poter obbligare i senza tetto ad andare ad alloggiare negli alloggi appunto a loro destinati. Non importa se la città di San Francisco ha portato il budget di investimento per costruire nuovi alloggi da 224 milioni a 640 milioni di dollari nel 2016 per creare nuovi alloggi per i senza tetto. Quello che complica le cose è infatti questa legge federale che impone a San Francisco di dire finché tu hai più senza tetto rispetto a quanti posti letto hai destinato non puoi obbligare gli homeless ad andare nei loro alloggi. Di conseguenza questi senza tetto sono assolutamente liberi di girare ovunque e potete ben capire che non vanno negli alloggi a loro destinati ma preferiscono vivere per strada. Per tanti motivi c'è possibilità di rubare ed essere impuniti, di fare uso di sostanze, di avere contatti per rivendere la merce rubata, insomma per fare tutto questo genere di attività occorre vivere per strada e infatti le strade di San Francisco sono piene piene di senza tetto. Quindi il problema dei senza tetto, Prop 47 che praticamente consente a chiunque di delinquere, fare quelli che erano i reati minori a testa alta senza avere alcun tipo di problema, è una miscela esplosiva. Come possiamo immaginare chiunque incentivato, che sia senza tetto o che abbia anche una vita regolare, è incentivato ad andare a delinquere sostanzialmente. Non essendoci una punizione tutto è permesso, tutto è lecito. Quindi che cosa succede? Furti, taccheggi, vengono saccheggiati e svaliggiati in un sacco di negozi, di attività commerciali, si entra in gruppo, fanno praticamente razzia di borse, di abiti firmati, di tutto ciò che può servire e la polizia non può intervenire, non è un reato. Sembra impensabile, e invece è proprio ciò che sta succedendo in una delle città più famose al mondo. Grosse catene stanno chiudendo, ovviamente non hanno più interesse ad avere dei punti vendita che vengono regolarmente saccheggiati dove nessuno paga. Semplici farmacie, anche piccoli negozi, supermercati, sono tutti in difficoltà. Ci sono situazioni in cui ci sono persone che vanno a fare la spesa, rubano, riempiono il carrello e se ne vanno. E i commessi non possono far nulla che se non stargli a guardare o quantomeno fargli un video e sperare che poi serva qualcosa. Ma finché il danno subito non è oltre 950 dollari, sono impunibili. E inoltre non è stata prevista la serialità. Che cosa significa? Che una persona, non importa che lo faccia regolarmente tutti i giorni e quindi sia un ladro seriale, che quindi lo fa di mestiere e continua a fare questo tipo di giochetto, la legge non prevede la serialità, significa che non importa, lo puoi fare quante volte vuoi. L'importante è che ogni volta che tu fai un danno, non superi i 950 dollari. Le conseguenze sono catastrofiche, perché ormai si è preso un trend in questo senso. Le perdite solo nel 2022 sono state di 112 miliardi nello Stato della California, dovuti a attaccheggi e furti nelle attività commerciali. Pensate un po', robe da fuori di testa. Ma non è un danno solo economico, è un danno anche per la salute di queste persone che a dire della legge dovevano essere tutelate, quindi queste fasce povere o deboli. Perché? Semplice, perché si è notato che purtroppo, avendo legalizzato l'utilizzo della maggior parte delle droghe, queste persone ne fanno più uso. Ovviamente è dovuto anche al fatto che hanno dei soldi in più in tasca dovuti ai furti, alla ricettazione, perché anche la ricettazione, cioè la vendita di ciò che io ho rubato, se è inferiore ai 950 dollari, è impunita. Di conseguenza hanno più accesso alle sostanze, quindi ne fanno più uso. E soprattutto, non essendo più riconosciuto un reato, l'utilizzo, lo Stato non può più obbligare questi utilizzatori abituali di droghe a affrontare quei percorsi di riabilitazione, di disintossicazione, che prima erano obbligati appunto a sostenere, che comunque un po' di vite salvavano. Pensate un po' che le morti dovute a overdose sono passate dal 2015, la legge del PROP 47 è stata varata nel novembre 2014, quindi dal 2015 al 2023 sono aumentate del 300%, cioè sono più che triplicate. Che cosa significa? Che queste vittime del sistema forse lo sono ancora di più. E di conseguenza una marea di homeless, zombie per strada sostanzialmente, furti, saccheggi. Che cosa ha portato? All'abbandono della città da parte di molti cittadini, di molte attività, perché si è visto che chiudono appunto, come vi dicevo, negozi e attività commerciali. I cittadini sono in pericolo perché si sentono circondati da un ambiente pericoloso, fatto di crimini e violenze e di persone che non ragionano tanto perché sono alterate. La vita è diventata così dura per i cittadini di San Francisco che sono costretti a lasciare aperte le macchine e con i portelloni aperti per mostrare che non c'è nulla da rubare, altrimenti verranno sfondati i vetri perché tanto il danno è sotto i 950 dollari e è impunito. E di conseguenza gli stessi uffici vengono abbandonati, sia per lo smart working che un po' in tutto il mondo sta prendendo piede, è vero, ma anche perché diventa pericoloso avvicinarsi a San Francisco, entrare in città per lavorare e appunto parcheggiare la propria macchina magari fuori dagli uffici perché poi se la si trova distrutta. E quindi se gli uffici non vengono utilizzati, non vengono affittati, e quindi diversi proprietari si ritrovano senza avere delle entrate dovute appunto a un sacco di attività sfitte e che nessuno vuole. Pensate che solo nell'ultimo anno, dal 2021 al 2022, dove ci sono le ultime statistiche, le proprietà sfitte, quindi non affittate, sono passate dall'essere del 20% al 30%. Significa che una proprietà su tre a San Francisco non è affittata, non è utilizzata, non la vuole nessuno. Perché ho voluto portare questa storia di San Francisco che ad ascoltarla veramente è dell'assurdo? Perché può essere pensata anche come un esperimento sociale, no? Dire, ragazzi, che succede se noi togliamo le punizioni, chiamiamole così, no? Cioè, lasciamo fare, lasciamo un ambiente un po' anarchico e lasciamo fare alle persone. Ok, ci sono molte persone che hanno buon senso e hanno uno spirito sociale, un buon vivere civile e che quindi si comporterebbero allo stesso modo. Ma non siamo tutti uguali e la dimostrazione è proprio ciò che sta succedendo a San Francisco. Cioè che molte persone, invece, ne approfittano e generano un effetto a catena, un domino pazzesco che va per i loro interessi, che può essere magari solo fare la spesa gratis e fregare una borsa di marca, a generare una ruota di distruzione che sembra essere difficile da fermare ormai. Quindi si capisce un po' come l'essere umano, non tutti, ma alcuni, abbiano bisogno di regole, almeno a me è questo che mi viene da pensare, perché altrimenti senza regole insomma succederebbe quello che sta succedendo a San Francisco. Ora, fermiamoci un attimo, rifletteteci su un po', scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Voi, come vedete questa cosa? Può essere utile questo esperimento? Potrebbe essere utile questa decisione in qualche modo di depenalizzare le pene, di assistere le fasce deboli? È assolutamente un errore perché diventa appunto qualcosa che va a discapito dei bravi cittadini? Insomma, vediamo che cosa ne pensate. Io leggerò i vostri commenti, sarà un piacere vedere un po' il confronto perché chiaramente possiamo magari non pensarlo a tutti dello stesso modo. Voi piazzate un bel like al video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo settimana prossima, lunedì prossimo, 13.45, con un nuovo video sulla difesa personale, professionale. E stessi!